Oggi parliamo di tattica di gioco di singolare e per farlo abbiamo analizzato un paio di punti giocati da due tennisti livello quarta categoria NC4644 dove andiamo a prendere degli spunti che penso possano esserti utili per giocare meglio i prossimi match. Prima di proseguire con l'argomento ti informo che abbiamo pubblicato una scheda dove mettiamo a confronto il rovescio ad una mano ed il rovescio a due mani. Utile soprattutto se senti che c'è qualcosa che non funziona nel tuo movimento, magari nella fase di preparazione piuttosto che nella fase del finale. Oppure se sei all'inizio e non hai ancora deciso quale rovescio fa il caso tuo, se il rovescio ad una mano oppure se il rovescio a due mani. Per ricevere questa scheda è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter. C'è il link qui in alto a destra, se non so mai se è qua o di qua, se ci stai guardando nel nostro canale YouTube oppure nel link presente nella biografia, nel profilo Instagram o pagina Facebook. Il giocatore in fondo è al servizio, riserve esterno, risposta corta, con una risposta del genere corta a un quarto campo, qui l'avversario può fare tutto quello che vuole. Il giocatore al servizio gioca un attacco veramente corto, che praticamente non è sbagliato, perché non è che bisogna sempre giocare la palla lunga e profonda, ma si può anche giocare una palla corta. Infatti il giocatore qui in risposta ci arriva male. E qui cosa succede? Ecco potete vedere che il giocatore che ha servito, che ha fatto l'attacco, rimane fermo qui a metà campo, non fa due passi avanti, pur ricevendo una palla lenta, ma si sposta solo di lato, la spetta, la spetta, la spetta e la va a colpire, eccola qui, praticamente a livello delle ginocchia sotto la rete. Il risultato appoggia una palla a metà campo, che poi il giocatore qui che era la risposta non riesce ad angolare bene e la manda a rete. In questi casi, quando noi serviamo esterno e l'avversario ci gioca una risposta corta e noi comunque attacchiamo e lo mettiamo in difficoltà, ecco nel momento in cui vediamo arrivare una palla lenta, magari alta, dobbiamo avvicinarci il più possibile a rete per colpire la palla più alta possibile per schiacciarla, perché se noi aspettiamo, 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 colpiremo la palla bassa, sarà impossibile giocare una volley vincente, se non in rari casi con una stop volley, ma comunque è una volley difficile, e quello che faremo sarà mettere una palla comoda al nostro avversario, che avrà la chance per giocare il passante. Andiamo a vedere un altro punto. Ecco, sempre relativo alla risposta al servizio, qui vedete il giocatore sempre in fondo al servizio, serve al corpo, il giocatore qui con la maglia nera opta per un dritto bello profondo per mettere in difficoltà all'avversario. Questa è una soluzione che è veramente valida, che spesso da qui si cerca l'angolo in lungolinea piuttosto che la diagonale. Rispondere invece centrale, forte, obbliga il nostro avversario ad indietreggiare, vedete come va indietro qui, e molto probabilmente ci restituisce, come in questo caso è una palla a meno un quarto campo, corta, e noi possiamo entrare meglio sul rovescio dell'avversario così da metterlo in difficoltà. Quindi come soluzione, la risposta centrale, forte, è una risposta che ha i suoi i suoi lati positivi che ci fa guadagnare campo. Andiamo a vedere un altro punto. Ecco, questo è un punto da analizzare dal punto di vista puramente tattico di base. Vedete che il giocatore con la maglia nera serve, esterno, il giocatore in risposta risponde con una diagonale di rovescio a tre quarti campo. Il giocatore qui con la maglia nera si trova, saranno due metri dietro la riga di fondo campo spostato lateralmente e opta per un rovescio lungolinea in slice. Ora, non è sbagliato giocare un rovescio in slice lungolinea da questa posizione, però il rischio di tirare la rete è elevato. Oppure, se anche la palla dovesse passare ad una certa velocità bassa, l'avversario comunque avrebbe tutto il campo libero per spingere con il dritto. In queste situazioni, meglio, o meglio, scusate il gioco di parole, in queste situazioni abbiamo più chance di ristabilire un equilibrio giocando una palla centrale o in diagonale, in modo tale da avere il tempo per recuperare. Giocare un lungolinea da questa posizione è veramente rischioso. Andiamo a vedere un altro punto dove il giocatore ha il servizio costretto a giocare un rovescio in slice. Vedete, servizio, risposta corta, eccolo qui. Questa è una soluzione che è veramente utile soprattutto con contro giocatori che hanno il rovescio B ma hanno il rovescio a due mani. Vedete, servizio, risposta corta. Qui invece di cercare il lungolinea che comunque ci sarebbe lo spazio o la diagonale stretta, il giocatore con la maglia nera opta per un bello slice lungo, centrale. L'avversario si trova la palla sui piedi, giocando un rovescio così lungo il giocatore al servizio ha tempo per, vedete, ritornare al centro, l'altro trovandosi la palla sui piedi non ha tempo per girarsi e quindi la tira a rete. Quindi come soluzione ogni tanto giocare uno slice o comunque un dritto centrale sui piedi dell'avversario è una soluzione efficace per metterlo in serie difficoltà. Vediamo un ultimo punto, sempre il giocatore qui in fondo al servizio. Ok, riguardiamolo un attimo assieme. Allora, servizio, risposta che non è delle migliori, che rimbalza corta. Guardate in questo caso, il giocatore al servizio avrebbe tutto il campo libero per spingere con il diritto verso il rovescio dell'avversario. Sceglie invece di giocare un attacco sul diritto dell'avversario che rimbalza però, vedete, qui, più o meno a metà campo, quindi un diritto abbastanza comodo per l'avversario che infatti gli gioca un primo passante sul rovescio basso. Sulla seconda palla il giocatore con la maglia nera non riesce a trovare angolo. Anche qui il giocatore a rete continua a giocare sul diritto dell'avversario che poi, ecco, sbaglia. Dal punto di vista tattico, in linea generale, quando ci troviamo in una situazione del genere, quindi quando l'avversario ci gioca una palla corta d'attacco, meglio spingere verso il suo rovescio, soprattutto se abbiamo il campo libero. Prenderlo in contropiede, soprattutto sulla terra rossa, è un pochettino difficile. Non è impossibile, però è un po' difficile. Se vogliamo però giocare sul diritto dell'avversario, magari in contropiede, il nostro colpo deve essere necessariamente lungo e forte. Se no, gli giocheremo una palla comoda sul suo colpo forte per giocarla con un passante, magari verso il nostro rovescio, mettendoci in seria difficoltà. Se il video ti è piaciuto, innanzitutto ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto. Qui in basso a destra c'è il pulsante. E ti ricordo che qui a lato ci dovrebbero essere dei riquadri che rimandano a dei video che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Se ti va, cliccaci sopra per guardarli.